Avrai sicuramente notato come nell'ultimo periodo su parecchie confezioni di prodotti alimentari compaia la scritta senza glutine e questa mancanza viene presentata come un vantaggio competitivo. Ora io ricordo quando ero bambino che esisteva la pastina glutinata, buitoni se non vado errato, che presentava l'aggiunta di glutine come un vantaggio competitivo. Ma cosa ha cambiato nel frattempo? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome sono i risultati che contano e non le teorie, di questo parliamo stasera. Dicevo, gli esperti sono dappertutto e si sentono costantemente autorizzati ad esprimere la loro augusta opinione. Il fatto che poi dieci esperti abbiano dieci opinioni diverse non sembra disturbarli. Ne abbiamo già parlato a proposito di altri argomenti. Ma questo aspetto appunto che mi diverte sul fatto che mentre oggi si sottolinea la mancanza di glutine come un vantaggio, 50 anni fa si aggiungeva perché si credeva che facesse bene a qualcosa per lo sviluppo dei bambini. Non ricordo quale fosse il pretesto. Per due decenni ci hanno torturati dicendo che non bisognava mangiare grassi dappertutto sulle confezioni alimentari, c'era solo con l'1% di grassi, solo con lo 0, qualcosa, salvo poi scoprire che togliere tutti i grassi non ha il minimo effetto sul grasso, sull'obesità e invece la carenza di grassi può essere estremamente dannosa per l'organismo. Come ho detto già in altre occasioni non entro nel merito di queste discussioni anche perché posso essere certo che appena apro, appena dico qualcosa vengo immediatamente smentito da altri dieci esperti. Quindi l'unica cosa intelligente da fare in questo senso, oltre a documentarsi da fonti diverse e possibilmente non dai settimanali di bassa lega, la cosa migliore è quello che dicevo ieri a proposito del pubblico, ovvero fare test su test. Io non entro nella diatriba fra vegani e carnivori, ognuno deve decidere per sé se li fa bene o no. Fate dei test, state una settimana e mangiate solo erba e vedete se vi sentite bene o no. Qualcuno va avanti tutta la vita a questo modo e sta benissimo, altri ci provano e dopo una settimana devono mollare. Quindi fermi restando una serie di principi alimentari e anche di allenamento, visto che di quello parliamo, di base. Poi non siamo tutti uguali e quello che fa bene a una persona può essere estremamente dannoso a un'altra e viceversa. Quindi prendete tutte le affermazioni con beneficio di inventario o come si diceva con granosalis, verificate sulla vostra pelle cosa funziona e cosa no e procedete. Non fidatevi ciecamente degli esperti perché potete essere sicuri che domani saranno smentiti da altri esperti. Una volta di più i risultati sono quelli che danno la misura della verità. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.